Di certo non è insipido, ma è addirittura piccante l'indice di siamo nati per soffriggere, riflessione ai fornelli che Gino Riviecio ha trasportato su carta, edita da Colonnese. Non si tratta, come suggerisce il titolo di un libro di ricette, le ricette sono solo un pretesto che l'artista napoletano ha utilizzato per cuocere sulla graticola chi crede ci abbia portato alla non facile situazione di Vito Dirna, insomma dalla padella alla brace. Tra una menessa ammaretata che diventa menessa separata per adeguarsi ai tempi e il prezzemolo sugli spaghetti a vongole che vuole punzecchiare scrittori troppo presenti col dirla loro, Riviecio cucina persone fatti e misfatti con un modo di scrivere accattivante e non c'è dubbio che si sia molto divertito a mettere su carta pensieri con diti di seria e ironia.